Ciao, si funziona la live, fortunatamente riesco a vederti e sentirti, anche tu mi senti e mi vedi, giusto? Bene, allora la linea funziona molto molto bene, sì sì, è vero, è vero, ovviamente è sempre più bello quando ci si vede di persona, ma dato che stiamo in questa situazione un po' complicata di pandemia, allora questi mezzi sono davvero ottimi per comunicare. Non sto facendo nulla di che e anche per questo mi fa piacere sentirti, almeno spendiamo un po' di tempo insieme per parlarci un po' e farci compagnia, anche se a distanza. Fammi osservare come sto, perché io faccio lo schermo che dove mi posso vedere. Dai, non è male, anche tu, non c'è male come stai, eh? Sì sì, stai bene, stai bene, non ti preoccupare. E vabbè, la mia cameretta penso che già l'avevi vista, se la ricordi no? Penso che hai capito dove mi trovo, sì. E allora che mi racconti come procede la vita? Eh sì, posso immaginare, a volte si diventa un po' noioso stare in casa. E sì, anche io effettivamente sento proprio questa esigenza di comunicare e soprattutto con te, perché sei una delle poche e rare persone con cui mi sento di confidarmi, di confidare molto. Poi, come pensai, ti voglio anche molto bene. Quindi, per qualsiasi cosa basta che mi fai sapere. E io ci sono sempre. Ormai sono tanti anni che ci conosciamo e sono veramente felice che, nonostante tutte le situazioni in cui ci troviamo, qualsiasi cosa accadano e alla fine comunque riusciamo a sentirci, a parlare, a vederci. E comunque scommetto che anche tu non riesci a dormire facilmente la sera, vero? Stesso problema. Ma per questo ci sono gli ASMR e poi ci sono io che li posso fare apposta per te, per aiutarti a dormire. Sì, lo so che questo già ti aiuta tanto, però a volte non basta nemmeno quello, perché è quella la situazione in cui ci troviamo. Però tu pensi una cosa, qualsiasi momento in cui tu non hai sonno, non ti vedi a andare a dormire, o non lo so, provi tristezza, o qualsiasi cosa succede, io ci sono, tu basta che mi contatti. lo so, l'importante è che sia tutto reciproco, esattamente, ovviamente lo stesso vale anche per me, quindi tu lo sai come sono io, come sono fatto. E da quanto tempo siamo? A pochissimo tempo, hai voglia, hai voglia. E comunque, guarda, ritornando a prima io sono molto soddisfatto di averti conosciuto, perché, vabbè, innanzitutto c'è un bellissimo feeling tra noi e questo penso che sia fondamentale in un'amicizia. Già, se ci sta questo alla base, è una grande, grande cosa e aiuta tanto, tanto. Poi, per come la vedo io in un'amicizia, bisogna essere anche semplici e liberi lasciare, anche magari se non la pensiamo proprio uguale su tutto, però qualcosa, qualcosina ci sta pure, è anche giusto che sia, giusto? Sei d'accordo? ecco, mi fa piacere, che bello. E poi è bello vederti sorridere. E poi, un'altra cosa, io adoro la tua risata, mi fa proprio, è contagiosa, è davvero tanto, tanto contagiosa, sì. Ti ricordi quella volta che ridevamo come dei pazzi? Insieme a me, mamma mia, quanti ne abbiamo passati, guarda, se mi ricordo, ogni anno ci sta sempre un momento fantastico insieme a te, indimenticabile. E non ti preoccupare che appena si sistemerà questa situazione, ci rifaremo, è? Stiamo sicuri su questo? Sì, lo sappiamo benissimo e non vedo l'ora, guarda, anche magari ti invito a casa mia, oppure anche tua, poi a casa tua, ci vedremo qualche bel film, poi faremo anche un bel massaggino, come piacciono a te, ok? Sì. E sì, perché a me piace tanto, tanto, tanto farti sentire tutto questo rilassamento, mi dà un senso di gioia. Senti, ma tu hai già cenato, giusto? Sì, anche io. E però ti vedo sorridente, dai, forse tutte queste cose che stiamo dicendo ti avranno fatto tornare il sorriso, un po' di gioia, un po' di speranza, ma lo sai che è lo stesso anche per me. Sì, esattamente. E sono molto, molto, molto felice. Anche il mio modo di parlare, quindi. Sì, guarda, me lo dicono tutti che ho questa maniera così tranquilla e io penso che nella vita sia importante anche avere molta, molta tranquillità, molta, molta serenità. Sì, esattamente perché spesso ci sono tanti stereotipi inutili nel mondo, ma penso che tra le cose più importanti che possono crearsi da due persone che si vogliono bene, sono il rispetto, la reciprocità, il feeling e anche molta, molta calma. Cercare sempre di essere sinceri come siamo noi due. e parlare, esprimersi, avere sempre quello che c'è dentro. Per esempio, vedi, se tu stasera non mi avessi parlato di alcune cose, magari stavi ancora così a pensarci, invece adesso che abbiamo avuto modo di esprimerci, ti senti meglio, vero? E anche io tantissimo, perché lo sai che io amo stare con te ogni singolo momento, ogni cosa che facciamo, per me è bellissima. Io guarda, ci vivrei dalla mattina alla sera con te, perché è un'esperienza bellissima, sei una delle rare persone meravigliose che ho conosciuto in tutta la mia vita. Non a caso, sei una delle poche che ci rimane nella mia vita e ci rimarrà sempre. Faremo in modo che sarà sempre, sempre così. si sta scaricando la telecamera. Anche a te, vabbè, vedi che coincidenza, cioè questo significa proprio che siamo fatti l'uno per l'altro. Vedi quante cose simili che abbiamo, anche queste cose inaspettate. E va bene, dai, comunque domani ci sentiamo e ci vediamo di nuovo, va bene? Sì. E ci aggiorniamo poi per gli orari, quando vuoi, guarda. Poi scegliamo stesso noi, magari. E ci accordiamo, magari, che ne so, per vederci un film o, non so, anche una semplice chiamata. O live come questa che stiamo facendo, va bene? Ok. Allora, ti saluto e ricordati che ti voglio tanto bene, non vedo l'ora di venire vicino a te e abbracciarti e stringerti e a carezzare. Sì, sì, lo so anche tu, che bello. Allora, ti mando una carezza e a presto. Ciao.